A Mascaluccia resta abbastanza calda la situazione politica. Civico Consesso nuovamente convocato tra sei giorni per tornare a discutere del piano rifiuti, cioè lo schema di gara per il nuovo appalto del servizio di spazzamento e di raccolta. Passa la linea della terza commissione, presieduta da Valentina Lombardo e posizione ribadita dal capogruppo del PD Giovanni Consoli. Rinvio motivato dall'esigenza di valutare meglio la documentazione ed eventualmente apportare emendamenti al testo. Nessuna approssimazione sarà tollerata, ha invece tunato il Movimento 5 Stelle con Agata Montesanto rivolgendosi ad amministrazione e maggioranza. Invece passa tra le polemiche la presa d'atto sul parere della Corte dei Conti in merito al Consuntivo 2013. Critici i mal di pancisti Alessio Cardi e Letizia De Vita che hanno visto nella delibera un tentativo dell'aggiunta di scarica barile sul Consiglio in merito alla gestione finanziaria.